Buongiorno a tutti, oggi annunciamo una notizia, una notizia importante credo per la città intera di Orvieto perché abbiamo presentato pochi giorni fa in Francia, nella città slo di Mirand sotto i Pirenei, durante l'assemblea internazionale che si è svolta in quella città francese e la nuova assemblea 2019 di città slo internazionale, la nuova assemblea che si terrà nella nostra città a Orvieto il 22 di giugno del 2019. Dirà qualcuno, beh manca quasi un anno, certo, ma è proprio per questo che vogliamo annunciare questa importante novità perché sono dieci anni che a Orvieto non c'è un'assemblea internazionale con tutti i delegati delle città slo. Oggi le città slo sono cresciute in tutto il mondo, siamo 253 sindaci e comunità che è distribuita in 30 paesi e devo dire che non solo in quantità ma anche in qualità i progetti di città slo stanno finalmente incidendo nella realtà sociale ed economica delle diverse realtà. E succede naturalmente e succederà sempre di più a Orvieto e prima di entrare nel merito io vorrei fare vedere il micro spot di promozione culturale e anche tecnica che abbiamo portato in Francia per annunciare l'assemblea ad Orvieto. Lo vediamo insieme. Welcome to an extraordinary city, 3,000 years old, but a place that knows how to look to the future. Orvieto, once capital of the Etruscan world and today center of the Città slo movement, founded right here on the 15th of October 1999 inside the historical Mancinelli Theater. Since then Città slo has been the creative force and movement that starting from an idea became a project worldwide. And now we are pleased to invite you to our town next June for the Città slo international assembly. I recommend that you explore the city slowly, living and breathing the atmosphere and discovering the most important monuments and the many alleyways or the hidden squares that create a unique texture of beauty. The true slow culture is found in the everyday life of a community. In town there are countless social meeting points like Piazza del Popolo market where every Thursday and Saturday morning you can buy local products promoted by the town, workshops and taverns. The Corpus Domini historical reenactment that will take place on the Sunday after the Città slo assembly is the most important feast of the year. Such commitment and rigorous preparation for the costumes and the staging can only happen in a town which values and nurtures craftsmanship and art. Respectful of its past and the future of generations to come. Protection of beauty is a commitment of all the citizens who work together with Comune Città slo. As of today, there are 30 Città slo orvieto local support, including local schools, from the nurseries to the high schools, all active in the formation of a new breed of slo citizens. We look forward to seeing you in Orvieto on the 22nd of June 2019. Come sapete, Città slo internazionale è stata fondata proprio ad Orvieto il 15 ottobre del 1999, quindi l'anno prossimo festeggiamo ulteriormente l'anniversario, il ventesimo anniversario di Città slo e lo festeggeremo assieme a questi circa 300 delegati provenienti da tutte le Città slo del mondo. Oggi siamo diffusi dalla California alla Corea, al Giappone, all'Australia e tutti i paesi europei praticamente rappresentati, inclusa Islanda e Turchia. Bene, 300 delegati sono una grandissima opportunità. Dobbiamo cogliere questa opportunità. Noi possiamo anche farvi vedere alcune immagini delle edizioni precedenti, delle edizioni degli ultimi anni, che hanno visto varie assemblee in giro per il mondo, dall'Olanda al Portogallo. E quindi abbiamo una serie, e dall'Australia addirittura, c'è stata l'anno scorso l'assemblea in Australia a Guluwa, e devo dire che sempre con grande attenzione successo crescente e scambio di buone pratiche. L'assemblea è un elemento istituzionale. Ogni anno, ogni associazione deve, anche per regolamento e per legge, organizzare l'assemblea. Per Città slo è qualcosa in più. Essendo Città slo un'associazione di sindaci e anche di cittadini e di comunità, Città slo è anche un momento, durante l'assemblea, di scambio e di, appunto, trasmissione, contatto, pubbliche relazioni interne ed esterne. L'anno prossimo coglieremo l'occasione proprio a Orvieto di ulteriormente dimostrare la qualità del progetto della nostra città. Quindi è una sfida anche per noi, per tutti i cittadini di Orvieto, per tutti i portatori di interesse, senza utilizzare necessariamente terminologie straniere, ma in ogni caso ci comprendiamo. Tutti coloro che hanno qualcosa da dire, dal cittadino singolo all'imprenditore, all'associazione di volontariato, alla scuola e all'artigiano, all'operatore del commercio naturalmente, del turismo. Cioè, tutti noi siamo coinvolti e, naturalmente, se uno vuole farlo, tutti sono chiamati a dare un contributo. Contributo anche in idee, facciamo in tempo. Naturalmente a settembre faremo incontri mirati e settoriali con i soggetti rappresentativi della città e questo è importante perché non è un'assemblea burocratica e statica, è un'assemblea aperta. Quindi, chiunque avesse qualcosa da portare che contribuisca a spiegare l'eccellenza della nostra città, del nostro territorio, beh, è benvenuto e le porte sono sempre aperte. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo finale è quello di dimostrare e fare vedere che siamo al centro di un distretto città slow, che abbiamo creato negli anni, in vero. Pensate che l'ultima città a entrare, poche settimane fa, è stata a Ficulle. Abbiamo, quindi, attorno a Orvieto, veramente un territorio slow, un territorio città slow, che va da Acquapendente a Todi, da Castiglione in Teverina, a Città della Pieve, e, appunto, comprendendo Orvieto, Parrano e anche altre città, per esempio a Meglia, un po' più discosta. L'intero territorio è diventato negli anni città slow, si è riconosciuto in questo modello, e questo non è banale, è una scelta ideale. Tutti noi oggi cerchiamo delle visioni, tra virgolette, per il destino dei nostri territori, delle nostre città, delle nostre comunità. Ebbene, città slow l'ha avuta questa visione tanti anni fa, dall'idea seminale di Paolo Saturnini, che era allora sindaco di Grevenchianti, che la propose ai sindaci di Orvieto, Bra e Positano, e da lì scaturì la prima scintilla di città slow che Orvieto fece sua dal punto di vista organizzativo, e anche politico e naturalmente progettuale. Il distretto città slow ci consente di dire che abbiamo bisogno di una città sempre più coesa, una città più unita, su determinati obiettivi. Gli obiettivi una città slow di norma li definisce assieme. Parliamo di comunità attiva, di beni comuni, di cittadinanza attiva. Parliamo di selezionare una serie di progetti, non si può fare tutto, soprattutto nelle piccole e medie città, però si può delineare insieme un futuro di qualità per tutti. Non per l'élite, non per qualcuno e basta, ma per tutti i cittadini. Città slow viene utilizzata come modello, anche per esempio in Giappone, ma anche in Ungheria, in altre realtà, come elemento strategico di sviluppo sociale ed economico per fermare, moderare la fuga di famiglie, di giovani, che migrano tutti spesso verso le periferie delle grandi metropoli mondiali. C'è una tendenza in atto che conosciamo, lo spopolamento delle aree rurali e delle piccole città, a favore dell'ingrossamento incredibile, in termini quantitativi negli ultimi anni, delle periferie delle grandi metropoli. Questo è un fenomeno assolutamente negativo, in particolare per Orvieto, perché avere meno demografia, meno peso demografico vuol dire avere meno futuro, meno vita. Città slow è proprio un modo per darci futuro, futuro che tocca tutti i punti del vivere comune, come dicevamo, e attraverso progetti concreti che realizzano non l'ufficio nostro centrale, che è qui ospitato dal Comune a Palazzo dei Sette, ma attraverso i progetti che ciascun portatore di interesse pubblico o privato può sviluppare dentro Città slow. Quindi abbiamo vari bivi da cogliere, la competizione globale ci mette di fronte quotidianamente ormai a bivi personali e collettivi continuamente, però sono anche bivi pieni di opportunità. Città slow è una grande organizzazione che dà vantaggio ai propri membri, ai cittadini delle comunità associate, e questo è dimostrabile e dimostrato proprio dai progetti. L'anno prossimo, il 22 giugno, porteremo a Orvieto una vetrina dei migliori progetti del mondo sui vari settori, dalle politiche sociali a quelle di Città slow tourism, che non sono quelle di politica industriale, non sono solo quelle di quantità, ma sono quelle anche di qualità, di turismo sartoriale, diffuso in tutto l'arco dell'anno, evitando possibilmente quei picchi che hanno fatto ormai ribellare la popolazione di città come Barcellona, Venezia o Firenze, se vogliamo dire i casi più eclatanti degli ultimi anni. Non si può utilizzare il turismo come una clava sulle comunità e sui territori, perché da opportunità positiva può diventare un'opportunità negativa. Quindi moderazione, attenzione alla quantità, alla capacità di carico dei territori, ma anche creatività, sviluppo, connessione, information technology e naturalmente messa in valore di tutto quello che abbiamo, che ancora non stiamo facendo. Pensate semplicemente il turismo slow di chi cammina. È diventata una moda dopo Santiago di Compostela, oggi abbiamo la via Romea Germanica che ci lambisce, abbiamo la Francigena, ci interessano tutte queste antiche vie. E questo è importantissimo anche per il futuro del nostro turismo slow che vogliamo portare avanti. Assieme alla connessione con gli altri settori, l'inogastronomia naturalmente è uno dei nostri cavalli di battaglia nel mondo, abbiamo la fortuna di avere il nome della città che è il nome del vino. E quindi non sono tante le città al mondo che hanno questo onore da Barolo a Malaga a Marsala, ma sono veramente, si contano sulle dita di una mano. Quindi questo significa che il vino presente a Orvieto da 3.000 anni, assieme agli altri straordinari prodotti, raccontano i stessi. È straordinario, è un pezzo della nostra cultura, della nostra cultura profonda. Termino dicendo tutto questo. I 300 delegati da tanti paesi vorranno un biglietto da visita di Orvieto attraverso città slow, vorranno leggere e riconoscere nella nostra città l'essere città slow come modello. Quindi il compito che ci aspetta in questi 11 mesi e poco più è proprio quello di ricentrare tutti assieme l'opportunità che ci è data. Se saremmo capaci di fare questo, faremo un'operazione straordinaria di comunicazione che avrà effetti positivi sulla città nei prossimi anni, non domani, dopodomani. Perché si tratta di marketing territoriale, gli esperti si riempiono anche la bocca talvolta di questi termini, ma qui più che marketing territoriale stiamo parlando di educazione sentimentale, di attenzione verso un territorio, riscoperta dal di dentro dell'approccio vero della penetrazione nella nostra cultura, nel nostro essere quotidiano, al di là delle super affettazioni. Costa magari qualcosa poter fare la pubblicità, tabellare su un giornale, su una radio, su una televisione, molto meglio agire sui sentimenti, sull'impressione che creano racconto, creano memoria e attenzione negli anni. Abbiamo una carta da giocare e dobbiamo giocarla tutti assieme.